ciao a tutti oggi vorrei parlarvi dei moduli dc dc step down ovvero di schede elettroniche come questa in grado di convertire una tensione in ingresso continua in una tensione in uscita continua più bassa il loro utilizzo è veramente semplice basterà applicare una tensione continua ipad in ingresso questi contrassegnati con in per poter prelevare una tensione più bassa ipad in uscita contrassegnati con out esistono diversi modelli possono avere tensioni fisse in uscita come 3,3 5 e 12 volt partendo una tensione più alta oppure come in questo caso specifico possono avere un trimmer per regolarla a nostro piacere oggi parleremo in particolare proprio di questa scheda che è chiamata lm 25 96 è molto molto comune in ambito hobbistico si può trovare infatti a pochi euro in tutti gli store online il vantaggio di questo tipo di convertitore rispetto ad altri ad esempio i regolatori di tensione della serie lm 78 conosciamo tutti 78 12 78 05 eccetera e l'efficienza infatti questi convertitori dissipano pochissimo calore a differenza degli altri raggiungendo anche il 95 per cento di efficienza e lo fanno attraverso dei cicli on off velocissimi utilizzando lo stesso principio usato dagli alimentatori switching lo svantaggio nell'uso di questi di questo tipo di convertitori e che possono indurre dei disturbi elettrici deleteri in alcune applicazioni ad esempio per le applicazioni audio hi fi che quindi richiedono dei filtri o schermature oppure l'utilizzo di alimentatori classici come dicevo prima uno dei modelli più noti di convertitori dc dc step down regolabili è il famosissimo modulo lm 25 96 una scheda elettronica basata sull'integrato 25 96 che è questo e lo possiamo vedere anche nello schema elettrico della scheda le caratteristiche sono una tensione in ingresso che va da 3 a 40 volt è una tensione in uscita regolabile attraverso il trimmer da 1,5 a 37 volt la tensione di ingresso deve essere almeno 1,5 volt più elevata dell'uscita la corrente erogabile massima da questa scheda sono due ampere 3 ampere di picco ma con l'utilizzo di un dissipatore di calore sull'integrato la frequenza di commutazione dei cicli on off è di 65 kHz e la corrente in assenza di carico quindi suo autoconsumo e di 10 mili ampere l'efficienza dichiarata è del 92 per cento mentre le dimensioni sono di 43 x 21 x 13 mm come si può vedere non so se si vede è veramente ridotto nella descrizione del video troverete sia il datasheet dell'integrato che il link per l'acquisto di vari modelli di step down ma passiamo a fare una prova pratica e come vedete si accenderà subito un led blu che indica la presenza di alimentazione su questi due morsetti potremmo prelevare una tensione in uscita più bassa adesso colleghiamo il tester impostiamo su volt impostiamo una alimentazione di 19,5 volt sul nostro alimentatore quindi misuriamo alimentazione 19,6 adesso andiamo a vedere l'uscita in questo caso siamo a 6,3 ma possiamo regolarla come detto da questo trimmer molti giri abbiamo 18,7 fino a ridurla a nostro piacimento ad esempio a 12 o anche meno 1,2 sempre basati sul medesimo integrato lm2596s questo esistono anche altri moduli che hanno uscite fisse ad esempio questo ha due porte usb una con uscita da 2 ampere una con un ampere abbiamo anche l'ingresso che può essere applicato tramite un jack o tramite un comodo morsetto a vite oltre per questo io ad esempio ho questo che ha un voltmetro integrato abbiamo anche qui i morsetti comodi all'ingresso un'uscita regolabile col solito trimmer multigiro e un'uscita sempre su morsetti con i pulsanti possibile accendere o spegnere il display di qui controlliamo tensione di ingresso tensione di uscita ingresso 18,7 uscita 18,1 sempre regolabile tramite il trimmer per oggi è tutto questi erano gli step down se il video vi è piaciuto lasciatemi pure un like io vi ringrazio per la visione ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti